in questa 0501 parliamo del mixer allora visto che fra un pochino cominceremo a registrare a produrre musica quindi partendo dalla programmazione di una batteria anzi prima ancora dal click da mettere i marker da creare una stesura fare la voce guida la chitarra guida poi la batteria il basso e ogni volta dovrò spiegarti quali sono i plugin e gli accorgimenti da applicare a questi strumenti che andremo a registrare fino ad arrivare al mix e al mastering ok quindi prima di questo io bisogna che ti spieghi come gestire tutti i segnali come metterli insieme e come farli ruotare diciamo come farli girare all'interno della nostra catena del suono per questo viene chiamato signal routing pensa ovvio che siamo partiti dall'inizio a vedere che cos'è il suono cosa sono le forme d'onda le armoniche come diventano questi segnali da queste variazioni di pressione come diventano segnali elettrici attraverso microfoni come vengono preamplificati come entrano nei convertitori quindi grazie alla quantizzazione quindi alla digitalizzazione bit kilohertz come diventano numeri come entrano nel computer ed ecco che iniziamo a parlare proprio di tracce e cose del genere allora prima di tutto il mixer di una dow di una digital audio workstation è l'emulazione di quello che è il mixer analogico ok così come i plugin che sono quindi queste cose molto semplici che non in drag and drop magari dopo averli acquistati su internet e scaricati semplicemente mettiamo questi plugin sono emulazioni di hardware ok quindi tutto quello che noi facciamo in digitali in realtà è l'emulazione di qualcosa che c'è che c'era ma che c'è in analogico e quindi però con tante possibilità soprattutto a livello del mixer è molto comodo perché possiamo ruotare il segnale fargli fare i percorsi anche molto complessi in poco tempo cosa che invece con l'analogico bisogna fare attraverso patch bay cavi stare attenti ai rumori non rumori manutenzione pulizia dei contatti eccetera quindi siamo pronti per capire che cos'è il mixer vediamolo allora prima di tutto lo sai che le cose che io ti dico passano sopra a qualsiasi software o moda cioè io ti spiego come funziona un mixer digitale e quindi che sia quello di logic che sia quello di pro tools o che sia qualsiasi altro software che tu stia utilizzando che utilizzerai in queste versioni e versioni che usciranno il principio di funzionamento del mixer sarà sempre questo e i nomi vedrai che più o meno saranno sempre questi non cambieranno più di tanto allora vediamo col nostro solito tablet di vedere come funziona un canale di un mixer allora prima di tutto partiamo da un canale di un mixer quali sono i controlli che noi troviamo abbiamo sempre uno stadio di input quindi uno stadio di in lin di norma è o un input fisica che significa input 1 per esempio potrebbe essere quello che arriva da una catena che è fatta da un microfono un preamplificatore un convertitore che entra in un'interfaccia oppure potrebbe essere l'input fisica della tua scheda audio che già ingloba tutto quanto va bene questo è lin facciamo un salto qui sotto per vedere invece quello che lo faccio con due righe belle dritte quello che è il fader che è quello che determina il fader il volume di uscita di questo canale tant'è che di norma qui abbiamo una sezione out dipende ogni software lo mette in posizioni diverse però sicuramente è quello che entra cos'è quello che entra decidiamo la sorgente di input decidiamo il volume e dove esce anche in questo caso in una console digitale quindi diciamo in anzi scusami visto che esistono console hardware digitali in questo tipo di console all'interno di una dow di un software noi possiamo decidere anche qui se l'output è un output fisica quindi esce da una connessione della nostra scheda audio oppure se va in qualcosa di interno o di virtuale così come anche l'input potrebbe essere un input virtuale voglio dire se l'input è fisica è quella di una scheda se un input virtuale potrebbe essere quello che arriva dall'output dal multi output di un virtual instrument molte batterie escono su canali separati e quindi noi possiamo dare questo input oppure possiamo creare dei bus e qui ti spiegherò poi che cosa sono e dare questi input ad altri canali quindi un bus che va lì oppure un altro canale che va dentro a un altro canale ok questo ovviamente è un canale come lo si vede potrebbe essere un canale di una traccia audio oppure di una traccia di una traccia bass ok aux ma poi non ti preoccupare che sarà diventerà sempre tutto chiaro ovviamente allo stesso modo l'out potrebbe andare in un bass o potrebbe andare sull'output e nei mixer analogici di norma ci sono dei pulsantini di fianco al fader che dicono per esempio subgruppo 1 2 3 4 5 6 basso oppure l r che è l'output main quindi già ti consiglio quando configuri il tuo software di dare anche dei nomi agli output e link che siano molto chiari che non ti lasciano dubbi ok dopodiché noi che cosa abbiamo qua ci possiamo trovare gli insert gli insert sono dove noi andiamo a mettere insert dove noi andiamo a mettere i plug che cosa sono i plug i plug in sono come ti ho detto delle emulazioni di processori hardware che esistono fisicamente oppure alcuni sono proprio plug in inventati così e questi vengono messi plug in l'insert in un mixer analogico è di allora in un mixer abbastanza economico dietro c'è scritto insert e c'è un unico jack che di norma è un connettore stereo sei quello che abbiamo visto usare per il connettore bilanciato trs dove però il tip e ring sono usati per mandata e ritorno quindi vuol dire che noi insert inseriamo tra lo stadio di guadagno di input guadagno e il fader questi insert ok noi in questo caso lo facciamo con un plug in il plug in è sempre prefader ok fader o fader io dico come mi capita sinceramente quindi gli insert plug in vengono messi in quella zona e vedi che in effetti se lo guardiamo quassù noi avremo l'input vedi che c'è il mega mouse l'input e anche visivamente vengono messi qui qui abbiamo il nostro fader e qui abbiamo la sezione di in out qui è soltanto visivamente in out potrebbe essere lassù su logic per esempio stare out ti dice dove l'out l'in lo mette da un'altra parte e qui abbiamo il nostro fader qui altre cose che vedremo e qui ci sono gli insert ogni software lavora in modo diverso ma li posiziona in modo diverso ma all'interno il routing è comunque così mette vicino in e out ma non significa che dall'in vai all'out ok è soltanto graficamente che noi lo vediamo in questo modo allora quindi che cosa possiamo vedere che insert plug in ok a questo punto c'è un'altra sezione che viene chiamata e in questa sezione hai più slot di norma aux o send anche in questo caso quindi send in inglese è mandare aux sta per auxiliari quindi sono mandate ausiliari che cosa vuol dire che all'interno qui noi apriamo una mandata e possiamo decidere dove mandarla di nuovo potrà essere un'uscita fisica di una della scheda per esempio potrebbe essere un esempio è la tua scheda ha un'uscita cuffia ma tu vuoi mandare le uscite a più musicisti e a fare a ciascuno un ascolto particolare allora mettendo qui un'uscita fisica da quell'uscita fisica tu vai in un amplificatore cuffia e farai per esempio chiami aux 1 bassista aux aux 1 stereo per il bassista aux 2 stereo per il chitarrista a seconda di come regolerai le mandate all'interno di questa mandata tu farai uscire da un'uscita fisica della tua interfaccia questi segnali che andranno in un amplificatore di cuffia che andranno alle cuffie di questi musicisti aux send dall'altra parte questa mandata ausiliaria ausiliaria cioè vuol dire che aiuta l'output principale tu la potrai mandare a dei bass i bass sono dei circuiti paralleli delle scatole le puoi immaginare come delle scatole dove noi possiamo mandare dei segnali dall'altra parte noi dagli input possiamo andare a prendere questi segnali ok queste mandate quindi mandate ausiliarie possono essere posizionate in due modi pre father o after father cioè se non scrivi niente cioè se non c'è nessun controllo vedi te lo faccio vedere in questo caso è qui e lo puoi vedere qui guarda vedi in questa zona qui adesso scusami appoggio l'ipad per mostrartelo con uno zoom vedi che qui questo è pre ok se premuto significa prefader se non è premuto che di solito è la condizione normale significa che è post father che cosa cambia cambia che la cosa è abbastanza intuitiva ma forse per me se tu non sei ancora dentro potrebbe non esserlo allora nella nella catena del suono che noi abbiamo visto abbiamo messo i plug in che sono tra lo stadio di guadagno e il father ok quindi l'input e il father e l'auks che cosa permette di mandare il segnale che è passato da che è entrato nell'input che è stato processato dai plug in lo mandiamo da qualche parte fisico o virtuale prima di essere toccato dal father e tu dici beh quindi che cosa serve molto semplice il father è sottoposto a altri due pulsanti che sono qui li facciamo qui così tac 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 uno è il mute e uno è il solo quando io metto questo father in mute dall'output non esce niente ma non esce niente nemmeno da tutti gli ausiliari che siano post father cioè l'output mute muta il segnale di quel canale al punto del father se tu hai preso i segnali auks dopo il father ovviamente non li stai mandando niente se tu invece li hai presi pre father tu muti il father ma da quell'output va e soprattutto per quanto tu alzi abbassi il father l'uscita pre father non ne sarà influenzata ripeto nell'esempio che abbiamo fatto di mandare le cuffie fare una mandata cuffia per degli altri musicisti se tu mentre loro suonano tu vai a toccare per farti un tuo mix per sentire meglio se tutti loro le hai messi post father loro impazziscono perché di colpo lì si alza una cosa si abbassa invece tu fai tutte le mandate cuffie a pre father fai a ciascuno l'ascolto che vuoi che vuoi e che vuole soprattutto dopodiché tu puoi mentre loro registrano fare i tuoi lavori puoi mettere in solo una traccia puoi cambiare il volume puoi fare cambiare i pan quello che vuoi perché appunto questi ausiliari saranno mandate ausiliare pre father quindi quello che tu farai post father a loro non interessa perché loro hanno già preso il segnale input plug in prendo il segnale e glielo dai e ovviamente abbiamo il pan pot il pan pot a livello di appunto a livello di pan non influenza la mandata post father ma attenzione a seconda dei software non influenza nemmeno né quella non influenza né quella pre né quella post a meno che non si abiliti riappoggio l'ipad e ti faccio vedere quello questo controllo che fmp che vuol dire follow master pan cioè segui il pan vuol dire che se io ho abilitato un send aux su una traccia che è pre o che è posto non interessa se gli dico follow master pan automaticamente prenderà il pan pot che la traccia principale su cui applicato questo send o questo aux send è impostato questo è molto importante perché a quel punto se tu vuoi fare un panorama stereo per te che stai ascoltando il mix e vuoi fare lo stesso panorama in un bass o agli ascolti cuffie insomma qualsiasi cosa tu gli dici follow master pan e a quel punto i pan pot che tu hai deciso nel mix si si rifletteranno in queste mandate ovviamente la il pulsante solo è la solo cioè mette in solo toglie tutte le altre tracce e ti lascia ascoltare soltanto la traccia che tu hai premuto quindi io metto in solo una traccia scusami questa è la visualizzazione metto in solo questa traccia automaticamente tutte le altre vanno in mute e esistono anche diversi modi di fare i soli che sono qui solo mode vedi latch o preview solo questo questo cambia a seconda dei dei software il fatto che quando io faccio solo e clicco questo diventi in solo soltanto questa quindi questa cancel preview solo il cancello l'altro solo oppure li aggiungo oppure potrei farlo con lo shift quasi tutti i software lo fanno con lo shift ma soprattutto esistono modalità che sono pre o post pre o post fader anche nel solo quindi se pre fader sentiamo dopo lo stadio di input i plug in indipendentemente dal volume se è un solo in place o post fader sentirò sia il pan pot che tutto quello che lo riguarda esiste poi anche la modalità solo isolate che vedremo quando ti spiegherò come mettere in barra gli effetti viene chiamato in barra quando creare degli aux in che saranno quindi tracce che hanno degli input virtuali che arrivano da dei bus su cui noi applicheremo degli effetti per mettere in parallelo quindi parleremo di seriale e di parallelo e ora tu prendi il tuo software te lo guardi e cerchi di riconoscere tutte queste cose come funzionano ok dopodiché andremo avanti e buon lavoro